Antonio Anania, 51 anni, latitante, dal 30 settembre scorso è stato arrestato all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Crotone. Anania, originario di Ciron Marina, era stato condannato in via definitiva a 9 anni e 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa nell'ambito della maxi-operazione Stige, condotta dalla DDA di Catanzaro nel 2018 contro le cosche del Crotonese. Dopo la sentenza della Cassazione, che aveva respinto il suo ricorso, l'uomo si era reso irreperibile. A settembre la Corte d'Appello di Catanzaro ne aveva dichiarato ufficialmente la latitanza. I carabinieri lo hanno localizzato monitorando gli spostamenti dei familiari tramite l'analisi delle celle telefoniche e la videosorveglianza. Anania si nascondeva in un complesso residenziale di via Trilussa a Ciron Marina di proprietà di un parente. Ritenuto affiliato alla Cosca Farao Marincola, Anania era accusato di avere infiltrato il centro di accoglienza a Sant'Antonio, occupandosi delle forniture e garantendo il controllo occulto della struttura per conto della Cosca. L'arresto è stato eseguito con il supporto di 20 militari e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Catanzaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.